Eeeh what's up a tutti ci urma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok Vi ricordo ragazzi che il vostro sostenico like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate E eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa effettivamente non è successo niente di così particolarmente trascendentale Però alla fine ragazzi Atreus dopo essere ritornato a casa dal suo incontro con Reia e aver fatto bellamente finta di niente Abbiamo praticamente saputo che Kratos assieme a Tyr ha deciso di tornare nel regno di Alfaim Nel regno degli Elfi per andare a scoprire eventuali segreti nell'altare che è presente lì E andarci appunto con Tyr ragazzi potrebbe essere particolarmente utile E quindi ragazzi dopo aver incontrato tra l'altro Ratatoskr che è lo scoiattolo che possiede così dice che è il suo albero Che possiede l'albero del mondo abbiamo effettuato il nostro viaggio appunto fino ad Alfaim E adesso non ci resta che appunto raggiungere l'altare E quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui Eravamo appena arrivati all'esterno Quindi direi di non perdere tempo e di continuare a procedere Sì mi sembra Ah sì Indaghiamo abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa veggente E' vero sia Treus aveva detto di aver sentito come se ci fosse un essere sofferente Là fuori Chissà La camera centrale ci porterà in cima Dopo aver oltrepassato l'ennesima porta di luce Wow Sempre tutto molto affascinante ragazzi eh Allora adesso dobbiamo appunto trovare il modo di passare Bisogna distruggere quel cristallo e quindi non ci resta che trovare il modo per farlo Allora ragazzi guardandomi in giro ho notato che effettivamente la pietra che ci serve è appesa lì Basterà dire a Treus di colpire Ecco qua Non è la posizione giusta No non lo è quindi dovremmo trovare il modo Ok ragazzi di trovare la posizione giusta basterà colpire anche qua Ok Questo però si può girare vedete credo cioè forse lo si può tirare in qualche modo Ah no si può usare come Sì si può usare come appiglio per passare dall'altra parte Senza limiti Ma che cosa? Potere? Crescita? Ambizione? Un po' vago no? Beh abbastanza vago Devo dare il merito agli alfi chiari La bellezza di questo tempio non è uguali nei nove regni E pensare che solo due inverni fa tutto questo era ricoperto da materia d'arnia e oscurità E' vero Magari aveva pure una sua bellezza nascosta in un certo senso Ma che altro c'è da dire? Marmo bianco e finiture in oro sono decisamente più attraenti Beh si 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 Che gli elfi solidamente siano conosciuti per il loro gusto La loro eleganza Questo è risaputo insomma Quindi andiamo di qua ragazzi E vediamo Dopo aver aperto questo forziere In che modo possiamo coprire Si colpire la pietra crepuscolare Per rompere l'altra pietra Acceleriamo le cose? Che senso? Da qui dovrebbe funzionare Oh Che fa Tyr? Che si appende? Eh? Aspetta un attimo Cioè mi state dicendo che devo effettivamente tornare di là Dopo essere arrivato fin qua dietro Perché Tyr ha ben deciso di appenderci si Come una scimmia Ma così sembrerebbe ragazzi Ho fatto A posto Grazie Tyr Grazie davvero Senza il tuo aiuto mi sa che non avremmo potuto proseguire Quindi La luce di Alfheim Che meraviglia Benissimo ragazzi Adesso non resta che salire Che succede? L'ultima volta lì dentro potevo sentire la mamma Ma ora no La sua anima è con la luce ora Legata a essa da forze più antiche di Odina È in pace ora a Treos Lo spero Quando mio padre è entrato nella luce Sei entrato nella luce di Alfheim Sì Eppure sei qui Sano di mente e decisamente non ridotto in cenere Devi dirmelo Kratos Cosa hai visto? Eh Quel ricordo è solo mio Ma per me sono passati solo istanti A me non sono sembrati istanti Ero in trappola Ma Treos ha superato molti ostacoli per salvarmi Posso solo immaginare Beh Il trittico di Groa ci attende Ci ricordiamo questo dettaglio ragazzi Quando Kratos era entrato nella luce Per lui erano passati solo pochi istanti Invece all'esterno Era passato davvero molto più tempo E a Treos poverino Si era ritrovato in mezzo ai casini insomma E nonostante tutto è riuscito A farcela Molte volte Ma era tormentata dalle visioni Perciò Parlare con lei era Complicato Per non dire peggio Per non dire peggio Per non dire peggio Che stai facendo? Io ho sentito qualcosa. Padre, lei non c'è più. Sì. Ora andiamo. Quando era entrato lì aveva rivisto sua moglie. Quindi probabilmente... Ah, hanno cambiato un po' di cose. L'altra volta c'era della roba d'Arnia qua giù. C'erano così tanti elfi scuri, io... Finora pensavo che il re degli elfi scuri... Che gli elfi scuri fossero... Tyr. Sì? Aiutammo la parte sbagliata. Sicuro che sia la domanda giusta. Io... Qual è la domanda giusta? C'è una parte giusta. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io... Non lo so. Allora forse non dovresti schierarti. Gli dicevo, probabilmente in Kratos si è risvegliato il desiderio di andare di nuovo lì. Forse sperando magari di rivedere sua moglie. Andiamo ragazzi. Siamo sempre più vicini. Il cammino comunque è stato... Devo dire lungo, eh. Più lungo di quanto credessi. Però l'importante è arrivare. Sono veramente curiosa di vedere cosa succederà una volta arrivati lì, ragazzi. Intanto rompiamo un po' di vasi, raccogliamo anche se pochi pezzi d'argento. Sono davvero molto curiosa perché... Cioè, sto desiderio, addirittura a Kratos, dire di tornare ad Alphine per fare questa cosa. Cioè, magari c'è un significato importante dietro a questa cosa qui. Quindi. Wow. Bellissimo. Sempre bellissimo, ragazzi. Ci siamo. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Super emozione. Ehi. Ciao. Pronti? Apriamo l'altare. Forse vedo qualcosa. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo. Guardate questo. Ah, sì. Qui Groa sta cercando il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Una visione del Ragnaroth. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Oh, il Bosco di Ferro è... Non so cosa sia. È il mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi è a Jotenaim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il Bosco di Ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotenaim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo volere. Il campione. Penso che dovrei essere... Io. Presumi un po' troppo. Meglio non prendere queste astrazioni alla lettera. Le profezie sono ingannevoli per natura. Anche se alcune sono più chiare di altre. Il Ragnaroth. Sì. La fine di tutto. Quindi è così? Non possiamo fare nulla per impedirlo? Deve esserci un modo. Se no, perché nasconderlo? Questo è il serpente del mondo. Tyr, questo è ciò che abbiamo visto. Sei tu. Combatti nel Ragnarok. No. Io non... Non posso. E questo che cosa? Questa sì che è una nuova. Era lui con Odino? Odino muore. Oh. Ha mentito. Ha mentito. Gro ha mentito. Certo che ha mentito. Odino ha creduto a una falsa profezia. Ha 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 ha. E allora possiamo vincere il Ragnarok. Possiamo battere Odino. Noi non siamo presenti lì da nessuna parte. Ma c'era Tira a guidare l'attacco contro Asgard. E poi c'era l'esercito di El. E gli Elfi. Il campione. Va bene. Chiunque sia non importa. Ma per la prima volta sappiamo qualcosa che Odino non sa. Noi possiamo vincere. Tyr? Non sarà una profezia a influenzare le mie scelte. Ma... Ma noi ti abbiamo visto. Atreus. È sbagliato. Vieni. Noi dobbiamo parlare. Ci siamo. Non possiamo fermare il Ragnarok. Però possiamo vincerlo. Se Asgard viene distrutto, Odino non sarà l'unico a morire. Deve esserci un altro modo. Ok ragazzi. Non sono sicura di aver compreso tutto al 100%. Ma a quanto pare la profezia dice che Odino sarà sconfitto. Che Odino morirà. E la profezia dice che Tyr combatterà nel Ragnarok. Però lui continua a dire di no. Continua a rifiutarsi all'idea. Quindi... Quello che ha detto pure Mimir. Le profezie magari non sempre sono veritiere al 100%. Forse bisogna anche interpretarle. Atreus che parla di questo campione. Chi sarà? Lui dice sono io. Base a cosa però. Non so ragazzi. Come posso aiutarti. Vediamo un attimino cosa possiamo potenziare ragazzi. Allora ragazzi. Sto trovando abbastanza interessante questa cintura dell'illuminazione per crearla e quindi equipaggiarla. Perché è vero che mi diminuisce di 3 la forza però mi aumenterà di 8 la difesa e di 13 il runico. Quindi direi che comunque è importante concentrarci anche ragazzi sulla statistica del runico. Quindi direi che la fabbrico. Perfetto. Potrebbe essere la mia creazione migliore. E la equipaggiamo ovviamente. Quindi questo a posto e per il resto dovremo essere abbastanza a posto ragazzi. Non posso potenziare altro perché non ho abbastanza materiali. Per cui ciao Sindri. Come sempre è stato un piacere. Direi che possiamo procedere. Quindi a questo punto suppongo che andremo via da Alfheim. Immagino. Forse prima è meglio se usciamo da qui. Concordo. Direi. Oh cavolacci. Allora ragazzi. Non volevo usare l'ira adesso. Per quanto comunque voi mi abbiate consigliato di usarla più spesso ragazzi. Perché in effetti comunque può essere molto utile. Volevo loccare il nemico perché mi avete consigliato giustamente di fare anche questo. Ho premuto per sbaglio sia L3 che R3. Però come sempre ragazzi io leggo tutti i vostri commenti e cerco di tenere sempre a mente tutti i vostri consigli. Perché come giustamente abbiamo notato questo capitolo ragazzi è un pochettino più ostico sicuramente. Ok 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 ok. Boom ok sono riuscita ad usare in modo abbastanza giusto lo scudo ragazzi. Perfetto ma come possiamo ben notare la vita scende con una facilità impressionante ragazzi. Andiamo avanti. Adesso tornare indietro non sarà facile. Questo è poco ma sicuro ragazzi. Tir intanto continua a procedere. Lo seguiamo. Dove sono i nemici? Li sento di fare un casino della miseria. A destra in arrivo. Uh gli incubi. Ok. Meglio fare attenzione a quelli puzzolenti ragazzi perché ti scaricano la puccia addosso. Oh 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 salve. Bravo ragazzo immobilizzalo. Potenza inarrestabile è davvero ottimo. Aia la miseria. Ok. Perfetto procedemus ragazzi. La riscesa dovrebbe essere un pochettino più rapida. Dovrebbe essere. Che c'è a sinistra? Che succede? Ah ok eccolo qua. Buono. L'esplosione dell'incubo ci ha dato una malina ragazzi. Perfetto andiamo. Dicevo la riscesa dovrebbe essere un po' più rapida però. Se ci si parano davanti più di tanti nemici. Eh lo so infatti. Vorrei fare veloce eh. Ma non sarà così semplice. Sicuramente. Aiaiaiaiaiai porcaccia miseria c'è. Ok è caduto giù. Perfetto. Dobbiamo proseguire. Sì 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 andiamo. Si stia bene. Concentravi. Di qua. Non lo so è che. Cioè l'idea di combattere la violenza eccetera. Lo agitano particolarmente in effetti. Continuiamo. Uh. Ok. Via un altro. Scendiamo ancora. Sempre più in basso. Gemma vitale. Attento tir. Oh. Oh. Beh. Oh cavolo. Oh porcaccia miseriaccia ragazzi. Ecco. Ha evitato pure il mio runico. Per la miseria. Oh. Aiaiaiaiai. Aiaiaiai. Allora. Se non sbaglio ragazzi. Mi è stata ricaricata la vita. Perché non ce l'avevo al massimo eh. Ero messa anche abbastanza male in effetti. Aiaiaiai. Ok vai figliolo vai. E mi è stata ricaricata anche l'ira. Perché avevo tutto scarico ragazzi in effetti eh. Gli attacchi rossi sono assolutamente da evitare. Uh. Sì 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 sì. Ok. Via così. Via così. Mi rendo conto ragazzi che l'ira è molto utile. Però non vorrei. Cioè usarla davvero troppo spesso. Che comunque ricaricarla ce ne vuole insomma. Beh anche se in questo caso in effetti forse è saggio usarla. Direi. Andiamo avanti al suon di cazzotti. Vai vai. Uh. Ok. Non è una grande durata ragazzi eh. Però immagino che quello dipenda anche dalle statistiche forse. Oh 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 oh. Bono 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 bono. Mannaggia la pupazza. Ok. D'accordo di quando è to' assegno ragazzi. Ci siamo. Sta usando la luce per curarsi. No no eh. Non usa una ceppa. Wow. Stai bene? Che è successo? Che carino è successo? Uh. Fiamma ghiacciata per potenziare il leviatano ragazzi. Gemma vitale. Gemma dell'ira. E. Complemento per scudo. Attenzione. Questo complemento ragazzi aumenta di sei la difesa e di nove la ricarica. Quindi comunque buono. E conferisce una benedizione della ricarica quando interrompi gli attacchi con doppio anello blu o esegui una parata. Il che comunque è assolutamente interessante. Quindi lo equipaggio ad occhi chiusi. Vediamo cosa attir ragazzi. È finita. Non è ancora finita. Io. Andrà tutto bene, Tyr. Hai visto cosa accadrà. Ho detto che non mi sarei unito alla guerra eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più quel dio. Non voglio combattere. Ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta a innumerevoli morti. A impensabili dolori e sofferenze. È diventato tipo un pacifista ragazzi. Non ne vuole sapere. No. Atteneus. D'attenzione. Resisti. Di qua. Le tue catene. Meno male, raga. Siamo caduti in armi. Acqua perché sennò... Grazie amico. Concordo. Sei ferito? No, signore. Ehi, Tyr. Grazie. E mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire. Ora andiamo. È arrivato il momento ragazzi di dire addio al regno di Alfheim. Non so se una volta per tutte. Io voglio solo... Non so se ci torneremo. E secondo la profezia... Basta parlare di profezie. La guerra non ti darà ciò che cerchi a Treus. Solo morte. Quindi cosa dovremmo fare? Arrenderci? Non fare nulla? Basta! Discuteremo di cosa fare quando saremo fuori pericolo. Eh, raga, lui vuole sapere, vuole sapere come andrà a finire sta cosa. Cioè, cosa succederà? Cosa si dovrà fare? E il punto è che continua a farsi sta domanda. Qual è la cosa giusta da fare? Ma giustamente, come gli hanno fatto notare loro prima, Cioè, c'è una parte giusta? Soprattutto quando si parla di guerre, ragazzi, eccetera, eccetera. Cioè, non è mai così... Così semplice. Ok. Raggiungi il passaggio mistico. Questo è il punto da cui siamo arrivati. Quindi, siamo... Dovremmo essere abbastanza vicini. Oddio, qua dice 260 metri, quindi neanche tanto. Ma, ehi! Ecco qua. Ma tu guarda un po', eh. Non lo so, figliolo, non lo so. Ehi! Ok. Carantan. Ehi, ehi, ehi! Ok. Avanti tutta! Perfetto. Raga, c'è sempre qualche colpo liceo che succede. È quello che vorrei fare, sinceramente, amico, però... Ok. Continuano a darci addosso, ragazzi, ad attaccarci. Cioè, qua è il delirio. Guardate che roba. Ehi! Vai, colpisci lì, figliolo. Vai! Chi altro c'è? Chi altro c'è? Ah, ci sei tu. Si è fermato. Via un altro. Gemma dell'ira. Gemma vitale. Procedemus! Wow! Sì, 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 amico, grazie. Ok. Vedete, ragazzi, benedizione e ricarica. Per ogni parata è andata a buon fine. Ottimo, ottimo. Mi piace. Perfetto. Andiamo avanti. Vai, figliolo. Andiamo, andiamo. Mamma mia. Aia, mannaggia la tua parte. No, no, no. Ehi. Aia, mannaggia la miseriaccia. Via, 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 via. Ok. Gemma vitale. Procedemus. Vieni, figliolo. Oh, cavolo. No, ha sprecato l'attacco unico. Pensavo fossero più vicini. Porcaccia, miseria. Via così, fuori un altro. Padre, di qua! Sì, sì, ti seguo, figliolo. Ciao, Tyr. Andiamo, allora. Forza, forza. Via. E raga, è proprio ansioso in questa situazione, eh. Via. La situazione è troppo drammatica. Niente. Alpi chiari, alpi scuri, ragazzi, continuano ad ambazzarsi a vicenda. Triste, ma vero. Gemma vitale. E via di qua. Forza! Oh! Ok. Aia. Mannaggia. Ragazzi, cioè, io premo L1 per fare la parata, solo che la parata di Kratos non è proprio immediatissima. Quindi bisogna avere davvero un ottimo tempismo. Per esempio, in Ghost of Tsushima, la parata è più immediata. Quindi, anche usandola all'ultimo momento, solitamente va a segno, la difesa. Ma qua è un pelino più lenta. E bisogna avere un tempismo un pochettino più giusto. Quindi, raccolto tutto, ragazzi. Procediamo di qua. Vai, figliolo. Ti seguo a ruota. Ti seguo a ruota. Mamma mia! Niente, raga. Cioè, sembra che non ci vogliano fare andare via, porcaccia miseria. Sono tantissimi, ragazzi. Ok. E' andato lì sotto, ragazzi. E' precipitato. Oh. Ammappate. Ok. Avanti così. Vai, di potenza inarrestabile. Vai, vai, però. Ok. 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 Boom, 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 boom. Ammazza. Aspettate, eh, che arrivo. Vi raggiungo. Rompo un po' di robetta. Ma non c'è niente da raccogliere. Quindi procediamo. E si va di sopra, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Non è uno scherzo. Pensavo che il ritorno sarebbe stato meno movimentato, sinceramente. Invece è stato difficoltoso. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo riusciti a raggiungere il passaggio mistico. Apri il passaggio. Figliolo, lascialo un po' in pace. Lascialo respirare. Perché poi, vedi, glielo vengono questi schizzi che, eh, forse non sono tanto consigliabili. Quindi direi che possiamo tornare all'albero, ragazzi. A casa di Sindri. Che c'è? Vuoi la guerra, Atreus? Guarda cosa ha lasciato questa nelle terre aride. Io ho già visto fin troppe cose. Dove vai? Ma, allora, il segreto di Gro ha completato. È ok. Ma dove va Atreus? Ritorna a casa di Sindri quando sei pronto. Quindi praticamente ti dà la possibilità di esplorare... Non c'è fretta. Anche di qua. Dovremmo esplorare questo deserto. Ma, quasi quasi, ragazzi. Visto che ci troviamo. So che non possiamo fidarci della profezia. Ma nemmeno ignorare ciò che abbiamo visto. Non lo stiamo ignorando. Ne riparleremo a casa. Assolutamente sì. Eh, eh, eh. Ma mi interessava questa cosa, sinceramente. Beh, ok. Cioè, ma ha incuriosito. Sì, fai strada. Questi li possiamo fare esplodere. Sì. Eh, no. Dovremmo riuscire a raggiungere le terre aride in cima, superando questa materia d'arria. Questi me li ricordano. Territorio degli Elfi Scuri. Sì, ma non abbiamo le frecce giuste. Cioè, non possiamo farli esplodere, ragazzi. Quindi, niente. Mi sa che ci si dovrà tornare una volta che avremo l'equipaggiamento corretto, insomma. Perché così non si può, ovviamente, proseguire. Mi dispiace perché ero curiosa di scoprire adesso cosa fosse, insomma, l'animale ferito che aveva sentito a Treus. Quindi, andiamo, ragazzi. Torniamo a casa di Sindri e vediamo di cos'altro si può parlare. Casa di Sindri. Ritorno a casa. Spero che Tyr abbia avuto abbastanza tempo per... trovare un equilibrio. Già. Ho visto lampi del vecchio dio della guerra in lui. Ma sono deboli. Non c'è nulla di male nell'opporsi alla guerra. O alle profezie. E sono d'accordo. Immagino abbia senso. Non si ha mai la certezza di cosa vogliono dire i giganti. Sono l'unico che ricorda che hanno predetto il nostro viaggio a Jotenaim. Se i giganti hanno visto Tyr che guidava eserciti nel Ragnarok, gli credo. La vera domanda è, riuscirai a farlo credere a Tyr? Esatto. E che, ragazzi, cioè, dove è stato il dio della guerra? Quindi, come ha detto adesso, hanno viste fin troppe di cose. Cioè, evidentemente, ma un po' le scatole piene. Cioè, ci può stare. Stufo di vedere morte, distruzione, violenza. Mastro Kratos, vorrei parlarvi. Oh, certo. Oh, lo adoro. Dimmi tutto quello che vuoi. Se mai doveste avere bisogno di me e io non fossi presente, ho installato questa campana a vento, così potrete avvisarmi. Vi basterà colpirla con l'ascia e io arriverò subito. Volete fare un lancio di prova? Ok, caro. Lancio perfetto, Mastro Kratos. Davvero professionista. Molto bene, ora sapete come chiamarmi. Detto questo, sarò felice di parlare di qualsiasi altra faccenda. Va benissimo. Amore, che si pulisce la faccetta! Con le sue zampine adorabili. Che è troppo, troppo tenero, ragazzi. Rientriamo in casa, va. Ok, è disponibile un potenziamento per il neviatano. Ovviamente, appena avremo il negozio, lo potenzierò. Eccoci qua. Ok, io vado un attimo intanto a raccogliere la robetta. Ah, va benissimo. Mangia la cena. Ok. Vabbè, ci sta, era sconvolto. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Vero, vero, vero. La gioia sta soprattutto, ragazzi, nelle piccole cose. Se non solamente nelle piccole cose. Quindi potenziamo il neviatano. Dopo tutto questo tempo è ancora bellissimo. Sempre, sempre lo è. La verità è sempre più complicata. Immaginare è semplice quanto pericoloso. È bello sentirli parlare, ragazzi. Allora, giustamente mi ricordano che ho punti esperienza per sbloccare nuove abilità. Per cui... Allora, questo per esempio è interessante, ragazzi. Segui attacchi ravvicinati in rapida successione senza subire danni per potenziare l'ame del caos e infliggere danni da fuoco con ogni colpo. Lo prendo. Tieni imprimuto R1 mentre brandisci le lame per scatenare una raffica di attacchi con danni elevati contro un singolo nemico. Io lo compro, ragazzi, ma... Cioè, come vi ho detto già una delle scorse volte, non sono sicura di ricordare tutte le singole abilità che abbiamo a disposizione, ragazzi. Ok, per quanto riguarda l'ascia, ragazzi, tieni imprimuto R1 per trascinare l'ascia sul terreno e generare delle schegge di ghiaccio dal suolo. Quindi è tipo quello che abbiamo appena comprato per le lame del caos. Basta tenere premuto R1. Gli attacchi ravvicinati con l'ascia contro i nemici in fiamma inflingono danni bonus. Perfetto. Anche questo, ragazzi, esegui attacchi ravvicinati in rapida successione senza subire danni per potenziare il leviatano e infliggere danni da gelo ad ogni colpo. Uguale a quello che abbiamo preso per le lame. Benissimo. Dopodiché, per quanto riguarda Atreus, Atreus attira le aggressioni nemiche quando Kratos è sotto pressione. Potrebbe essere molto utile. Atreus può colpire un nemico con una rapida spazzata di scudo per infliggere stordimento elevato. Anche questo. Atreus può fare inciampare i nemici ed eseguire un pestaggio che applica stordimento pesante. Cioè, tutte cose, ragazzi, che sicuramente possono tornarci utili. Per cui, adesso... Ci siamo, possiamo cenare. Sediamoci, ragazzi. Sindri continua a pulire. Ah, c'è il poggiapento, là c'è stato. Ecco. Aveva appena pulito. Perché? Che ha che non va? Ecco ti servito. Un pasto da campione. Basta. Ho detto che non ne avremmo più parlato. Sì, hai ragione. Non volevo offenderti. Non mi sono offeso. È solo una parola. Una parola che ti offusca la mente. Quindi, tu non credi che abbia un significato? È il viaggio che ci ha fatto fare mamma? Sì, ma stesso l'uomo per mangiare. Questo a cosa è servito? Tu non te lo chiedi mai. Ogni giorno. Ma non credo che il suo scopo fosse farti correre inutili rischi. E se i giganti contassero su di me? Quali giganti? Io conto su di te. Che tu sia sicuro. Che sia sveglio. Ma faccia ragionamenti da uomo e non da bambino. Ma se Loki dovesse andare al Bosco di Ferro... Tu! Sei Atreus. Sei il mio figlio. E niente di più. Hai capito? Non ho più fame. Perdonami, Kratos. Le mie parole sono state sconsiderate. Dovresti mangiare. Pare che sia importante. Farlo ogni giorno o quasi. Io proprio non capisco. Perché tutte quelle storie su Loki? Il campione e il Bosco di Ferro, se non sono vere! Lui è così! Ti dispiace se ti do il miglior consiglio che avrai oggi? E forse in assoluto. Dormi. È solo allora che tutti i tuoi problemi si potranno risolvere. Sì. Certo, dormire. Grande idea. Dico davvero. Anch'io. Avanti, fuori di qui. Sono già fuori. Sempre col terrore dei germi. È adorabile, ragazzi. Questo l'ha trovato nell'altare di Groa. Sta a fare. Bosco di Ferro. Bosco di Ferro. Bosco di Ferro. Loki. Vabbè nei suoi sogni Comunque sta roba Oh cavolacci Allora bosco di ferro ragazzi E' uscito scritto anche appunto Nella profezia Che si celava dietro l'altare di Groano E il bosco di ferro Era quello che aveva nominato il serpente del mondo Quindi comunque ritorna sempre Questo bosco di ferro però Mimira ha detto guarda che bosco di ferro Non esiste cioè è solo Una cosa inventata Però perché cavolo il serpente del mondo Dovrebbe nominare bosco di ferro Se davvero non esiste Boh E in più ragazzi Kratos comunque Continua a Cioè restare Sulla sua opinione Cioè che non vuole avere niente a che fare Con tutta sta storia Che vuole che suo figlio La smetta di cercare I significati nascosti Dove non ci sono Che la smetta di crearsi Idee Che lo illudono in qualche modo Cioè su cose che non ci sono Che poi bisogna vedere Se non ci sono davvero o meno Il fatto che lui sia stato chiamato Loki Eccetera eccetera Che significato abbia questa cosa Cosa centrico Ragnarok Cioè ragazzi È bella intrecciata Tutta sta storia Comunque Io ho paura a un certo punto di perdermi Spero sinceramente di no Ma niente Comunque lui c'ha la sua età Un ragazzino Ovviamente in quella fase Probabilmente anche di ribellione Che non sopporta suo padre Perché ovviamente gli dice Che non deve fare le cose Che invece lui vorrebbe fare E quindi si scatenano discussioni E tutto il resto Chissà Ragazzi Non so a cosa porterà tutto questo Non so dove siamo In questo esatto momento Ma ci fermiamo qui Quest'oggi E riprenderemo esattamente Da questo punto La prossima volta Come sempre aspettate i vostri pareri Qua sotto in commento Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Abdocio a tutti ragazzi Da Giocherina Ciao